Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Store, via Piano d'Arvine 15 a Tripanda. Il lupo rinvenuto morto sul partenio lo scorso 20 dicembre è deceduto a causa di una virus in corso di tipizzazione. Lo comunica Antonio Limone, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, al termine degli esami autoptici effettuati dall'ente. L'animale è accettato presso la sezione diagnostica di Avellino lo scorso 21 dicembre e è stato sottoposto ad esame necroscopico presso la sede di Portici il 24 dicembre, prosegue ancora il direttore, e dall'esame necroscopico sono emerse assenza di traumi e lesioni macroscopiche riconducibili ad un'infezione gastroenterica e morragica. L'esame istologico ha evidenziato lesioni da gastrite, enterite, meningoencefalite, virale, mentre gli esami tossicologici e batteriologici sono risultati tutti negativi. Gli esami virologici condotti mediante test biomolecolari invece hanno rilevato la presenza di un genoma virale che è in corso di tipizzazione e che è la causa del decesso dell'animale. Non è raro, precisa ancora Antonio Limone, il rilevamento di infezioni virali nel lupo. Gli stessi ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico infatti hanno segnalato per la prima volta in campagna una triplice infezione negli organi di un lupo trovato morto a Montella il 6 dicembre del 2016.